Sul tappeto 1, Gaggiori, Simone, Lantieri, Giuseppe, Gaggiori, Lantieri. Si preparano, Marlucci, Emanuele, Renzini, Riccardo. Marlucci, Renzini, si preparano al tappeto 1. Vincere, Marlucci, Paolo. Grazie. Grazie. Vai, Martino. Vai, Martino. Vai, Martino. Vai, Martino. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al tappeto numero 3, Braganti con il Signore, Braganti con il Signore, al tappeto numero 3, Dinsa Carlo, Chiara al tavolo della Presidenza. Vince Gargioni. Grazie. Al tappeto numero 3, Braganti con il Signore, Braganti con il Signore, Braganti con il Signore. Si preparano Marcheggiani, Dennis, Gloria e Marco. Vincenzo. 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 Vince Calvelli. Vince Calvelli.